Si avvicina la data dell'assemblea annuale delle società sportive Cessi di Valle Camonica. Sì, come tutti gli anni, all'inizio della primavera è anche il periodo per ritrovarci con tutti i nostri soci che sono le società sportive per la cosa principale approvare il bilancio consultivo del 2009. Ma quest'anno vorremmo anche approfittare del fatto che siamo raggiunti alla metà del mandato e quindi è bene anche guardarci intorno e analizzare cose molto semplici come, per esempio, gestire i calendari, come gestire gli spostamenti gara e cioè analizzare tutte quelle situazioni che poi portano a disagi fra le stesse società. Si è scelta una domenica mattina per trovarci con le società sportive a dibattere questi temi. Pensi che sarà un incentivo in più alla partecipazione, visto che questa riunione non è mai così attraente per i gruppi sportivi? Difatti si erano un po' indecisi se farla durante la settimana di sera o se fare il sabato pomeriggio. Poi abbiamo analizzato che le attività sono aperte e quindi era la domenica mattina il periodo in cui le attività CSI sono quasi tutte ferme e quindi per consentire alle società la massima partecipazione. Sicuramente molti la vedono come una perdita di tempo, i più attenti invece valuteranno il fatto che è un momento associativo importantissimo, non tanto per approvare il bilancio, perché è un bilancio consultivo, sono ormai delle spese già fatte e quindi non è che si possa lavorarci sopra tanto, ma bisogna analizzare anche come intendiamo programmare la nostra attività. Diamo allora data e orari di questo incontro con le società. Ci troviamo domenica mattina alle 8.30 qua in sede e il giorno è il 21 di marzo.